L'amministrazione comunale di Castro Reale guidata da Alessandro Portaro ha proceduto a rimodulare l'importo del progetto i borghi della conoscenza o borghi itinerario. Si tratta di un intervento finanziato a livello regionale per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative e turistiche. Il progetto punta ad un ecoturismo dei borghi autentici, competitivi ed innovativi collegato all'identità del paese che è tra i borghi più belli d'Italia della Sicilia. L'importo originario era di oltre 239 mila euro e adesso è stato ridotto a 200 mila. L'intervento si riferisce a investimenti di fruizione pubblica per infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Castro Reale e il comune Capofila e poi ci sono anche i comuni di Barcellona e Fondachelli Fantina, la Proloquo Artemisia, il Ciser e il Collegio dei Geometri della provincia di Messina. Si vuole realizzare un centro ricreativo e culturale ed informazione e accoglienza turistica, poi arredi, segnaletica, potenziamento dell'informazione turistica, siti web e applicazioni informatiche, anche strumenti di informazione tradizionale, materiale informativo, video e miglioramento degli itinerari.